Tantissimi iscritti mi chiedono nei commenti quale programma utilizzi per editare e montare i tuoi video. Raga, la risposta è sempre la stessa, ovviamente utilizzo Wondershare Filmora 10. Le caratteristiche distintive di questo programma sono la sua semplicità e tantissime funzionalità utili che migliorano la qualità del video e gli danno un tocco di professionalità, come per esempio il tracciamento di movimento, tantissime transizioni fantastiche, più di 300 effetti video, creazione di animazioni personalizzate ed emoji, effetti di titolo stupendi e tantissime altre funzioni come split screen, registrazione dello schermo direttamente dal programma, ecc. Filmora 10 è disponibile anche in modo gratuito, infatti avrete a disposizione il programma completo di tutte le sue funzionalità ma nel video finale sarà presente una piccola filigrana con il logo di Filmora. Quindi potete scaricare il programma, testare tutte le sue funzioni e successivamente valutare di sottoscrivere un piano a pagamento nel caso voleste produrre dei video professionali di qualità. Nella descrizione vi lascio sia il link del programma gratuito e sia il codice sconto del 10% su tutti i piani di Filmora. Oh sì, il fantomatico pezzo forte scomparso che riesce per magia a disattivare il Kragol. Lord Business racconta la profezia del pezzo forte e dello speciale nonostante Vitruvius la conosca già. Al quanto pare è giusto per informare lo spettatore al cinema. E come in ogni film con una storia simile, quello speciale dovrà per forza essere un imbranato e un folito nella vita. Ormai i produttori del film hanno dimenticato che cosa significhi essere originali. Appunto, un tizio che saluta le porte e altri oggetti privi di vita. Perché la sveglia è piazzata in basso da qualche parte a due metri di distanza da Emmett se in realtà è alla sinistra del suo letto? E ci vogliono dire che ogni mattina si sveglia con tre ore di anticipo giusto per provare tutti i costumi possibili prima di andare al lavoro. In tutto ciò ha anche il tempo necessario per guardare la sua serie tv preferita. Che poi sembra che questa sia composto da una sola frase e scena girata all'infinito, ma tralasciamo questi dettagli. Emmett si è dimenticato di salutare l'ultimo gatto dietro a Jeff. Sulla destra vediamo una serie di cartelli stradali, sulla sinistra invece ci sono solamente dei bastoncini decorativi. Guarda caso tutti i vicini di Emmett sono entrati in macchina e sono partiti nello stesso preciso istante come se fossero dei robot. Questa tizia con il bicchiere di caffè, nella successiva inquadratura si teletrasporta il tavolo vicino alla parete e in più le compare anche un minolego davanti. Dopo cinque ore di lavoro è già sera tardi con tanto della fine del turno lavorativo. Credo che questa scena duri un po' troppo per essere considerata divertente. Il pezzo forte viene illuminato da un proiettore di luce artificiale giusto per fare più effetto. E per puro caso a due passi di distanza si trova l'istruzione di non toccare con le mani i pezzi strani. I produttori hanno deciso di non perdere tempo a spiegarci in che modo Emmett si è uscito da questa grotta profondissima per finire nella caserma della pulizia. Il pezzo forte, attaccato alla schiena del personaggio principale, scompare e ricompare in continuazione per tutta la durata del discorso con Poliduro. Che poi se quest'ultimo lavora per Lord Business, a quale scopo svela il suo pieno malvagio a Emmett? Il video con le persone che conoscono Emmett è stato montato in un modo da fargli capire esplicitamente quanto lo denigrino tutte quelle persone che considera amici. Il pezzo si può tranquillamente staccare dalla schiena di Emmett. Perché non lo fanno e basta? E anche qui non poteva mancare il cliché del salvataggio dell'eroe principale a un millisecondo dalla morte. E in più vorrà ripetuto per tutta la durata del film almeno una decina di volte. Lu si taglia la catena della mano sinistra, mentre quella sulla mano destra si apre per fatti propri. Si raga! Dobbiamo avvisare Vitruvius che il pezzo è stato trovato! Ah, quindi Vitruvius è sopravvissuto dopo il bagno nel lago di lava. Ma per caso lui sia una supereroina tipo Flash? Cioè in che modo può rallentare il tempo intorno a sé e parlare a Emmett a velocità normale? Una mini casa da due stanze massimo, durante la scena è cresciuta di dieci volte trasformandosi in enorme castello con corridoi infiniti. Il portale dista qualche metro, ma in tutto ciò passano quasi due minuti interi con tanto di interrogatorio esaustivo prima che ci arrivino. E come anche in tutti gli altri film, il corpo della polizia è formato da degli imbecilli che per inseguire una moto provocano la fine del mondo facendo esplodere qualsiasi cosa abbiano a disposizione. I due hanno attraversato il portale su questo velivolo che dall'altra parte si è smaterializzato nell'aria. La scritta Old West si trova proprio sopra la testa degli eroi principali, ma nel bel mezzo della frase salta a chilometri di distanza. Ok, posso capire quando Lucy pende su una corda dentro l'edificio, ma in che modo riesce a farlo in questa scena? Si è attaccata direttamente al cielo. Il cavallo di Lucy è nero, un attimo dopo diventa marrone e poi torna di nuovo nero. E come mai Lucy è incastrata all'interno del cavallo mentre Emmett si è semplicemente poggiato sopra con le gambe distese? Nella parola inglese faraone hanno scambiato di posizione le lettere A e O. I robot non hanno notato il foro nel muro solo perché si trovano fuori dall'inquadratura della cinepresa. Venga questa roba, questo è il mantello di Cher 8. Mi dicono che fa malissimo toglierlo, vuoi provarlo? Perché mai dovrebbe far male se non avete dei peli da strappare? Vitruvius suona il pianoforte senza le dita e semplicemente sbattendo le mani sui tasti. Poliduro prende il rossetto praticamente dal nulla. Se Emmett ha un viso talmente comune da non poter essere trovato nel database, come può l'aggiunta di un cappello uguale a tutti gli altri portati in questo universo renderlo ad un tratto riconoscibile? E di nuovo si ripete la scena del portale. Al diruppo mancano pochi metri, ma passano quasi due minuti prima che Emmett trovi la soluzione e li salvi dalla morte imminente. I cavalli scolpiono nel momento dell'impatto perché i produttori si fanno le canne. E come in ogni inseguimento del film, non può mai mancare il treno che passa sui binari in questo preciso istante. Dopo un impatto simile, i personaggi devono volare in avanti e non verso l'alto. Poliduro può investire gli eroi principali nel giro di massimo tre secondi, ma la scena dura quasi un minuto come se qualcuno prendesse l'auto e la spostasse alla fine del treno. Sparare direttamente il vagone per ucciderli? No, è troppo facile. Meglio che distruggo i binari, così che cadranno e potranno salvarsi all'ultimo istante. Che poi, perché mai dovrebbe morire con l'impatto contro l'acqua se all'inizio del film i produttori ci hanno mostrato la caduta infinita di Emmett da chissà quella altezza dove non si è procurato nemmeno un graffio. Il mondo va di nuovo in slow motion, mentre Lucy ed Emmett parlano a velocità normale. Sono riuscito a scappare salvando per un pelo solo la testa! Barbacciaio ha perso tutto il suo corpo nella battaglia, dopodiché è riuscito a far volare la sua testa fuori dall'edificio e salvarsi. Nulla di più strano. Il localizzatore è iniziato a lampeggiare solamente quando è stato inquadrato dalla cinepresa, mentre era spento in tutte le scene precedenti per non attirare troppo l'interesse degli spettatori. E com'è possibile che ne Emmett né tutti gli altri non se ne sono accorti di un localizzatore enorme piazzato su quasi tutta la gamba? Ah, forse perché era invisibile fino alla scena necessaria alla trama. Il jet invisibile di Wonder Woman viene distrutto nel punto esatto in cui si trovava la Batmobile. Queste piccole nuvolette sono comparse durante il cambio di inquadratura. L'acqua è formata dalle stesse particelle Lego come tutti gli altri elementi del film, ma dall'interno invece ci mostrano l'acqua del nostro mondo. La logica non esiste. E queste bollicine non dovrebbero essere sempre di Lego, cioè persino il vapore è quadrato, perché mai gli elementi cambino di proprietà nel corso del film? Un foro nel sommergibile provoca la sua imminente esplosione. Ok. In che modo i personaggi Lego si sono nascosti all'interno del divano se a questo è tre volte più piccolo del loro corpo? Il piano geniale per sconfiggere Lord Business consiste nel mettere di guardia un tizio cieco, mandare in missione di infiltrazione un robot enorme che provoca un sacco di rumore e si nota a chilometri di distanza, e affidare l'accheraggio del computer a un tizio che non ne capisce nulla. Se Bruce Wayne doveva presentarsi alla riunione in abito da ufficio, perché mai Emmett l'ha disegnato ovunque con il costume da Batman? Batman pende da un buco immaginario nel tetto che era assente fino a due secondi fa. E perché il suo mantello non penzola verso terra come sulla nave di Barbacciaio? Vitruvius ci mostra l'abilità di combattimento di Bruce Lee, nonostante l'inizio del film fosse un semplice vecchio incapace. Ma allora cosa stava a significare quella serie di flashback che ha visto Emmett nel momento in cui ha toccato il pezzo forte? Tutti i personaggi Lego si muovono per fatti propri, quindi il fantasma di Vitruvius spende da un filo, dato che il regista non voleva che il film avesse alcun senso logico. Lo stesso astronauta, che non era in grado di usare i computer fino a dieci minuti fa, ora diventa un vero hacker solo perché serve per la trama. Da quel che sembra, la vita di Emmett veniva sempre registrata da una cinepresa e un cameraman che viveva praticamente nel suo appartamento. Ciò vale anche per le scene del film, riprese da qualche cinepresa piazzata in mezzo al mare. Questo abitante della città fu bloccato dalla colla e inquadrato su tutto lo schermo proprio qualche minuto prima. Non mangiarmi, ti prego! Ciao Emmett! Per chi lo saluta come se lo vedesse per la prima volta, se lo ha animato per tutto il film. Non appena Emmett finisce nel mondo reale, nel preciso istante anche il padre del bambino è entrato nella stanza giusto per non perdere troppo tempo in vano. A quanto pare era troppo difficile girare il film con la stessa figurina di Emmett e quindi hanno deciso di usarne più di una con chiare differenze di qualità. Qui non so cosa abbiano deciso di far capire i produttori. Praticamente un omino Lego che si muove nella vita reale. Cioè, tutto il film era basato sull'immaginazione del bambino e i movimenti erano opera della sua fantasia. Perché mai ad un tratto ci mostrano la scena dove i personaggi Lego si muovono per fatti proprio nel mondo reale. Tutto ciò non ha un minimo senso! Che poi il padre ha girato la testa quando Emmett si mosse un po', mentre quando questo inizia ad avere degli spasmi non ci penso nemmeno di guardarlo. Finn mette il pezzo forte nella mano destra di Emmett, un attimo dopo salta nella mano sinistra. Quando Lord Business viene tolto il casco, vediamo che sotto di esso ci sono i suoi capelli. Nonostante all'inizio del film ci abbiano fatto vedere che questi venivano tolti per piazzare il casco. Lord Business animato aveva la parte bassa dei capelli più chiara. Nella realtà invece tutti i capelli sono dello stesso colore. Eh sì, che sarà mai la crudele uccisione di Vitruvius proprio davanti ai tuoi occhi. È la persona più brillante e straordinaria dell'universo, Cheat. Lucy si trova vicino a Emmett, nella successiva inquadratura e due metri più avanti. Ciao! 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 Grazie a tutti